ciao siamo al casificio montrone per preparare un dolce golosissimo delle crostatine al cioccolato con ricotta del casificio montrone e ciliegie una tira l'altra vedrete nel mixer frulliamo i biscotti al cioccolato con il burro prendiamo uno stampo da crostatina del diametro di 12 centimetri circa rivestiamolo con carta da forno stendiamo il composto ottenuto con l'aiuto di un cucchiaio e facciamo riposare in frigo mescoliamo la ricotta con lo zucchero a velo e aggiungiamo le gocce di cioccolato fondente versiamo la crema ottenuta sul fondo della crostata guarniamo la superficie con le ciliegie snocciolate per farlo le poggiamo sul collo di una bottiglietta e premiamo al centro con una cannuccia il nocciolo cadrà nella bottiglietta e la nostra ciliegia rimarrà intera guarniamo la superficie della crostata con le ciliegie e la lasciamo rassodare in frigo per un'ora circa per farla fuori servirà molto meno tempo visto che siamo in estate conserviamo le gocce di cioccolato in freezer e poi possiamo sostituire le ciliegie con gli irtilli caseificio montrone la ricetta della tua estate a 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